L'edizione di Swift Heroes 2021 è stato per noi davvero un grande successo e non vediamo l'ora di lavorare a quella del 2022, che sia in presenza, da remoto, in tutti e due i casi, chi lo sa. Gli aspetti più importanti? Certamente il fatto che abbiamo deciso di fare le riprese in una location per eventi vera e quindi non più in uno studio di produzione. Può sembrare una differenza sottile, ma in realtà il feeling e il percepito a distanza, da remoto, da quello che è il pubblico che si connette, abbiamo scoperto essere abbastanza diverso. Hanno apprezzato il fatto che noi fossimo sul palco come sul palco siamo quando facciamo l'evento in presenza e devo dire che anche per il team che ci ha lavorato un po' fa la differenza, nel senso che ti dà un minimo quella sensazione che ti dava il salire sul palco della tua location. Ecco questo sicuramente è uno dei punti salienti. Un altro punto molto importante dell'edizione di quest'anno è stata la qualità dell'agenda. Abbiamo avuto un'agenda che è stata commentata da quasi tutti gli esperti di settore come una delle migliori agende lato iOS che si sono viste negli ultimi anni. Abbiamo avuto esperti professionisti freelance, esperti di grandi aziende, davvero una serie di nomi e di argomenti molto interessanti. Tra questi ha spiccato la tavola rotonda composta da ben dieci esperti di iOS che tra l'altro ha visto il ritorno dello sviluppatore capo del New York Times che era stato con noi addirittura in presenza facendo lo speech di apertura nel 2018 e che si è voluto unire per portare comunque la sua firma a questa tavola rotonda che pensate all'ora di pranzo ha sforato l'ora e dieci di durata nonostante appunto la gente volesse anche fare una piccola pausa ma avere a disposizione dieci esperti iOS pronti a raccontare le loro esperienze è stato davvero coinvolgente. Infine un altro punto che mi sentirei di citare è l'engagement che ha avuto il pubblico. Sono letteralmente più avute le domande su tutti e due i canali di trasmissione dell'evento quindi per tutte nove le ore della trasmissione ci sono state domande agli speaker praticamente ininterrottamente. Se non ricordo male non c'è stato un singolo talk di cui siamo riusciti a evadere tutte le domande che sono arrivate ma abbiamo sempre purtroppo dovuto stoppare per questioni di programmazione ovviamente e rinviare a eventuali contatti diretti con gli speaker. Abbiamo superato i 750 biglietti venduti e stiamo ancora contando perché l'evento rimarrà aperto per diversi mesi dopo la data ufficiale e questo è un risultato incredibile per come la vediamo da un punto di vista di un evento digitale anche considerando che è andato molto oltre i risultati dei precedenti eventi fisici. Sempre parlando di partecipanti all'evento l'altro risultato straordinario è che abbiamo avuto partecipanti da ogni continente e si sono effettivamente collegati non tutti in diretta ovviamente per via delle time zones ma hanno comunque fatto check in sulla piattaforma prima o dopo. Parlando di zone geografiche un altro risultato curioso e anche importante è che per la prima volta le presenze europee hanno superato le presenze italiane quindi Swift Heroes è diventato quello che veramente è sempre stata la sua tagline dall'inizio ovvero The International Swift Conference adesso possiamo effettivamente non solo dirlo ma anche dimostrarlo con i numeri dato che la presenza internazionale ha superato di gran lunga quella della presenza italiana. Infine un numero che consideriamo molto interessante è quello legato alla percentuale di sviluppatori che hanno partecipato all'evento che ha toccato addirittura il 92% rispetto a un'oscillazione tra i 75 e l'80 delle edizioni precedenti. Questo naturalmente ci dimostra quanto sia in target l'evento e soprattutto quanto sia diventato davvero interessante per le persone perché per pagare un biglietto e collegarsi da casa devi effettivamente essere interessato e questo è il motivo che ci porta ad avere così tanti sviluppatori in target all'interno dell'evento. La community è sicuramente uno dei punti di forza dei nostri due eventi principali per sviluppatori e la community di Swift Heroes che abbiamo diciamo iniziato a far crescere nel 2018 è sicuramente uno dei punti di forza dell'evento sponsor si rivolgono a noi soprattutto perché sanno esistere una vera community attorno a questo movimento e ci fa piacere notare che i feedback sono stati tanti e tutti 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 molto molto positivi. Addirittura l'unico feedback negativo che è arrivato è stato troppo, troppo contenuto, troppo valore, troppo tutto insieme, mi ci vuole una settimana per riuscire a vedere davvero tutto quello che avete prodotto. Allora per come la vediamo noi ci sono molti pro e pochissimi contro, anzi per essere sinceri il contro principale lo sappiamo tutti di un evento in Italia è la mancanza del catering. Battute a parte è chiaro che il contro grosso che anche tutti i clienti ci chiedono come facciamo a superare è l'assenza diciamo del contatto umano, il contatto dal vivo, stare vicino, incontrarsi, rivedersi. Questi sono probabilmente due punti che saranno per sempre a sfavore degli eventi digitali. Viceversa però noi abbiamo trovato davvero tantissimi vantaggi negli eventi digitali partendo anche qui dalle cose più banali il budget quindi certamente c'è un fortissimo risparmio nell'investire in eventi digitali, la possibilità di scalare quindi scalare non solo nel mercato internazionale anche nel mercato nazionale in qualunque caso c'è sempre la possibilità di avere più pubblico. Collegato a questo c'è anche un tema di sostenibilità nel senso che molti speaker hanno cominciato a porsi il problema che viaggiare significa prendere aerei e significa inquinare via dicendo, sprecare tutto quello che è connesso mentre invece la partecipazione in digitale naturalmente annulla praticamente tutte queste tipologie di problemi. Inoltre l'evento digitale è un evento per definizione on demand quindi io non sono obbligato a stare connesso al video all'ora in cui vai in onda all'evento ma posso decidere di collegarmi in seguito posso decidere di rivederlo quante volte voglio questa è una cosa che sicuramente è destinata a durare nel tempo come esperienza che l'utente si sta facendo. Sostenibile significa anche inclusivo inclusivo e quindi pensiamo alle disabilità. Non è una sorpresa per noi scoprire che abbiamo avuto diversi spettatori connessi dall'Africa alcuni dei quali disabili completamente disabili che quindi non avrebbero mai potuto partecipare a un evento del genere in presenza. Per noi è stata una sorpresa positiva ma in questo caso la tecnologia ci permette di abbattere letteralmente tutte le barriere fisiche. È stato curioso quella che è l'evoluzione diciamo del mio dipartimento perché con l'avvento della pandemia creando eventi in presenza e formazione in presenza eravamo sicuramente la parte più impattata di tutta l'azienda ed eravamo molto preoccupati. In realtà guardandola oggi questa è stata sicuramente un'opportunità. Ci ha dato la possibilità di creare questo brand Advento Live e questo insieme di servizi che forniamo per gli eventi digitali ed è stata l'occasione alla fine di unire quella che è stato da sempre il DNA dell'azienda cioè la tecnologia e l'expertise delle persone che lavorano nel nostro team. È un'expertise che viene dagli eventi, dagli eventi fisici, dagli eventi sportivi e dalla tecnologia negli eventi ed è stato quasi naturale per i clienti chiederci una mano nel supportarli con gli eventi digitali perché abbiamo questo questo bagaglio tecnico e abbiamo queste capacità piattaforme soluzioni servizi. A oggi quindi guardando avanti noi pensiamo di poter supportare nella transizione al digitale piccole grandi imprese e anche ovviamente di conseguenza nella loro transizione al digitale per quanto riguarda gli eventi sia che siano in presenza sia che siano completamente digitali. Ibrido è una parola che ha un'accezione strana nel mondo degli eventi quella che la nostra percezione ad oggi posto che nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere cosa succederà è che certamente non esisterà un mondo dove non esiste il digitale perché è un'esperienza che l'utente ormai si aspetta cioè sarà scontato poter fruire di un qualche cosa da remoto. Questa è la nostra percezione in questo momento dell'immediato e anche del medio futuro nel mondo degli eventi. Sarà molto difficile per un utente accettare che per partecipare ad un evento deve prendere un aereo a tutti i costi deve essere lì fisicamente naturalmente sarà bellissimo per loro per questi utenti avere la possibilità di farlo ma avere la scelta in questo senso noi intendiamo la parola ibrido nel senso che ci sarà sempre comunque una parte digital che permetterà agli utenti di essere collegati da ogni angolo del pianeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.